Senatore Consiglio, il Ministro Chienge dice che il concetto di famiglia come lo conosciamo è superato. Lei cosa ne pensa? Credo che il Ministro sia completamente fuori da tutti i parametri sociali e umani che hanno accompagnato la storia di questo Paese. E il voler mettere in condizione i genitori di essere chiamati genitore 1 e genitore 2 credo che sia dal suo punto di vista una mossa molto ben fatta. Perché se la matematica non è un'opinione e la famiglia sta diventando insieme ai genitori un'opinione, non la facciamo più diventare un'opinione chiamandola con i numeri. E quindi dopo diventa tutto incasellato in un certo modo e quindi il Ministro ha perfettamente ragione. Dato invece che considero una stupidata enorme questa condizione che ha, diciamo così, sottolineato il Ministro, credo che il bambino, la prima cosa che faccia, una delle prime parole, se non la prima parola, che impara è mamma. E mi sembrerebbe strano vedere un bambino che chiama 1 o chiama 2. Poi non so se i nonni li chiameremo 3 o li chiameremo 4, adesso cercheremo di attrezzarci anche sotto l'aspetto, diciamo così, numerico. E anche un bambino quando la maestra gli dirà, vieni, è venuto a prenderti la tua 1 o è venuto a prenderti il tuo 2. Credo che ci siano delle cose che diventano anche un po' anche simpatico, no? E questo credo che sia una barzelletta che debba essere, diciamo così, neanche presa in considerazione ma tenuta d'occhio comunque.